Magari prima c'eravamo dei fatti, per esempio il consiglio Carte e Pune, per esempio gli audente, se la faccio vedere, ma quantomeno fa qualche cosa. Noi sono seri, presidente, nessun presidente si mette a fare questo, si mette a scartare il fatto alto, insomma, tutte le risposte, più basse le risposte le risposte le risposte le risposte le risposte le risposte le risposte.